Faramusic Fest è la diciassettesima edizione, è appena terminato il primo weekend con tre concerti in programmazione IFA, La Pia, Zaccheo, Trio questa mattina all'alba sul Monte Aguzziano e Tribus Trio questa sera Siamo in questo splendido cortile cinto dalle mure abbaziali qui in Abbazia di Falpa proseguiremo per altri tre weekend qui nel nostro garden con la New Jazz Generation l'anteprima del Faramusic Festival e poi dal 27 luglio i grandi del jazz nazionale e internazionale Stefano Di Battista, Roberto Gatto con Zeppetelle, Manuel Becks, Gabriele Mirabassi, Rosario Giuliani Maurizio Gianmarco con Andrea Rea, poi ci sarà Susanna Stivali con il Trio Corrente Band vincitore di un Latin Grammy Award, ci sarà Karima con un bellissimo tributo a Barbacarac Enrico Pianunzi con Valentina Ranalli quindi spazio alle grandi voci e poi dopo questo blocco centrale tra luglio e agosto appunto nel Parco Cremonesi torneremo nel nostro garden e per terminare con i 27 concerti in programmazione di nuovo con la nuova generazione jazz e con i migliori talenti del jazz italiano con progetti originali trovate tutto il programma su faramusic.it l'abbazia di Falpa si trova a soli 35 minuti da Roma è un'ottima opportunità per visitare la Sabina, per godersi un po' di fresco e per degustare i nostri prodotti a chilometro zero vi aspettiamo, FARA Music Festival grazie a tutti